Ci sarà anche il ministro dei beni culturali, Gennaro San Giuliano, domenica 12 maggio, nel primo degli eventi in calendario per la valorizzazione e la revitalizzazione della chiesa di Sant'Anna in Viale Bovio a Pescara. Allora all'interno di Villa Muzzi fu uno dei primi edifici religiosi di Castellammare, la terza chiesa più antica dopo la Madonna dei Sette Dolori e la Chiesetta del Carmine. 12 maggio, data non casuale, legata al miracolo dell'acqua, della Madonna dei Sette Dolori che vi era stata portata in processione durante una lunga società. Per cui c'era un culto particolare, questo culto divenne ancora più importante per il fatto che durante la processione iniziò a cadere tantissima acqua e per quanta acqua cadde in quell'occasione la Madonna non è potuta ritornare alla Madonna dei Sette Dolori, alla Basilica, ma è stata ricoverata proprio in questa piccola chiesetta per alcuni giorni. Il calendario di attività ed eventi è promosso da ANAS, Associazione Nazionale Azione Sociale Abruzzo, in collaborazione con Conservatorio d'Annunzio e Comune di Pescara. Eventi per valorizzare il restauro recentemente completato con 250.000 euro del patto per il Sud. Ha interessato il ripristino e il risanamento del portone Ligno, il pavimento originario e soprattutto la pulitura e il consolidamento delle superfici decorate, il recupero e il rifacimento del patrimonio degli affreschi. Molte persone di una certa età sono ancora molto molto legate a questa chiesa, ci hanno raccontato tanti aneddoti e per questo ritengo che sia molto importante restituirla alla cittadinanza, non solo dal punto di vista architettonico, che comunque ha una grande importanza, ma anche dal punto di vista sociale per la città.